Un saluto a tutti i lettori di SmartphoneLab.it Sto girando questo video da Honor View 10 alla risoluzione del 1080p a 60 frame per secondo vi ricordo che questo dispositivo ha solo la stabilizzazione elettronica quindi alcun tipo di stabilizzazione ottica purtroppo che per uno smartphone di questa fascia di prezzo mi sarei comunque aspettato mi continuo a muovervi un po' per farvi apprezzare la poca stabilizzazione che purtroppo c'è mi continuo un po' a muovervi giusto per avere un po' un'idea sulla stabilizzazione anche se purtroppo non è il massimo faccio uno zoom e torno indietro video girato da Honor View 10 alla risoluzione del 1080p a 60 frame per secondo vi ricordo che per tutti gli altri dettagli trovate tutto all'interno della recensione che è da poco uscita anche sul canale ciao ciao